Il Comune di Battipaglia è istituito con apposito regolamento l'albo delle associazioni e degli organismi privati senza scopo di lucro. Attraverso questo strumento si consente alle associazioni iscritte di usufruire degli spazi comunali e di avere un punto di riferimento operativo nel programmare attività ed iniziative culturali. Sul sito dell'ente viene ricordato, come è accaduto nel mese di maggio, che c'è tempo fino al 30 novembre di ogni anno per presentare le istanze per l'iscrizione al registro comunale delle associazioni. Grazie